Buonasera, spero vi state tutti bene. In questi giorni appunto, non so se avete visto, ma nei giorni appunto della partita dell'Empoli non ho pubblicato un video riguardante, diciamo, delle mie impressioni personali. Ho messo il video post partita dove, come sempre quando ci sono i rigori per la Fiorentina, come l'anno scorso contro il Bologna, non mi ricordo, Parma anche, ho messo, diciamo, l'integrale cascaroba, l'integrale dei rigori della partita. Allora, ho fatto anche la live reaction, è uscita molto tardi, sono stati dei giorni abbastanza particolari, mettiamola così, quindi scusate se il video è uscito in ritardissimo, è uscito tipo la notte di giovedì sera, robe, quindi vabbè. A parte vedo ragazzi, voglio parlare appunto della partita che ci sarà domani a mezzogiorno e mezzo e due paroline sulla partita dell'Empoli, della eliminazione di Coppa Italia che posso essere onesto, non me l'aspettavo. Cioè proprio io pensavo che comunque si fosse un po' cambiato marcia, soprattutto contro l'Empoli, perché contro l'Empoli ragazzi l'abbiamo già affrontata, abbiamo anche avuto modo di vedere i loro tatticismi in campo, il loro modo di difendere, il loro modo di aggredire uomo contro uomo. Quindi ho detto, chiaramente, Palladino in generale, nonostante comunque, perché poi ho visto che tanti l'hanno utilizzato come scusa, io non penso che Cataldi e Palladino in conferenza stampa l'abbiano utilizzata come una scusante, mettiamola così, proprio invadente. La quasi tragedia sfiorata, meno male, di Bove, che appunto siamo entrati in campo, si era molto bloccati perché ci sapeva in testa ancora quelle immagini, no? Io voglio dirvi allora un paio di cose. La prima è che il fatto che Palladino stia provando, nelle ultime partite soprattutto, con il fatto che ora appunto Bove lasciamolo perdere per un attimo, visto tanta roba lasciamo proprio perdere tutti questi discorsi, grandi discorsi. Si vedrà poi in futuro cosa succederà anche al ragazzo, l'importante è che stia bene, non ce ne frega niente di campo fino a che non sta bene lui. Per bene, nel senso bene, bene anche sicuro al 100%. E il fatto che Adli era fermo non al 100% perché ci aveva avuto l'influenza o qualcosa del genere, Palladino ha voluto riprovare Martínez Quarta mediano. E secondo me questo è un segnale forte da parte dell'allenatore, che manda anche alla società, e anche al giocatore, nel dire Guarda Martínez, a gennaio arriva Valentina, c'è Moreno, i titolari inamovibili sono Comuzzo e Ranieri ed è tornato comunque anche Pongracic. Quindi, se te, visto che adesso Bove come se non ci fosse più, se te vuoi continuare a giocare, ti devi ritagliare un posto come mediano. Perché chiaramente nella difesa fa i danni. Ragazzi, Martínez Quarta si è detto ormai da, si dice da quattro anni ormai, dal primo anno d'italiano, che Martínez Quarta è un difensore molto atipico. Grande goleador, sempre ribadisco, scoperta grossa d'italiano sotto questo punto di vista, ma a livello difensivo, soprattutto di marcatura, è pessimo. Pessimo, pessimo. Io sono convinto che anche Moreno, nonostante si sia visto 45 minuti per due partite, sia nettamente migliore di Martínez Quarta in fase di marcatura. Ma anche un qualunque altro tipo di centrocampista che abbiamo. Perché proprio, non lo so, non ha i tempi, non ce la fa. Interventi incredibili, scivolate, lì poi un Arachiri, nel senso, o prendi la palla e fai ripartire l'azione, oppure ammazzi il difensore, o l'attaccante, scusate, in scivolata. Ma per il resto, in fase di marcatura, buchi, ma proprio buchi, buchi clamorosi. Quindi, visto che i piedi effettivamente ce l'ha, non era una cattiva idea provarlo a mediano, e noi, tanti, lo chiedevano a gran voce anche ai tempi di italiano. Non è stato un esperimento fallimentare, nonostante il primo gol, lui, insieme a Terracciano, l'abbiamo preso appunto per colpa sua. Per un'uscita non scellerata, ma comunque poco attenta dalla mediana della squadra, che ci è costato il primo gol e partire subito dopo quattro minuti di una partita che te tu vai fuori se te tu la perdi, che appunto così è stato, prendere dopo quattro minuti i gol dai Kong. Capito? Ok. Quindi Martínez Quarta, secondo me, o si ritaglia un po' di spazio come riserva ovviamente nel centrocampo della Fiorentina, oppure, secondo me, anche lui a gennaio potrebbe salutare la squadra, visto che sembrerebbe esserci più di un giocatore in partenza a gennaio. Poi appunto anche il fatto che magari potrebbe anche arrivare un centrocampista, perché forse anche l'allenatore potrebbe servirgli, li vedremo. Altro discorso, ragazzi, Terracciano. Terracciano, mi avete, tanti di voi mi hanno aspramente criticato l'anno scorso, quando io criticavo il giocatore, per le prestazioni in negativo, per le prestazioni positive, nelle partite che ci ha, per esempio, salvato il culo, come due anni fa contro il Tuente, dove fece quella bella parata al 98esimo, contro l'Udinese l'anno scorso, e tante altre comunque partite dove il giocatore si è messo in luce in positivo, io non ho mai detto niente, anzi l'ho sempre ringraziato, però ho sempre chiaramente criticato il fatto che è un portiere normalissimo, quasi mediocre in certe partite, vedi anche le ultime due che gli abbiamo visto fare, soprattutto quella di ieri l'altro, dove è stato, cioè, non un disastro, però molto poco attento, il grosso errore l'ha fatto contro il Paphos, cioè che quello è proprio una roba che non si deve vedere, non esiste, neanche un portiere amatoriale fa una roba del genere, ok? Quindi, io da oggi in poi chiederei perlomeno alla società di far entrare piano piano, però di farlo entrare, soprattutto anche nelle partite magari di conference, visto che la Coppa Italia ci ha salutato, Martinelli. Martinelli, ragazzi, è un giocatore che va coltivato, va coltivato ma va fatto giocare, perché è ok coltivarlo, però prima o poi tu lo devi far giocare, ok? Perché, sì, lo coltivi, lo coltivi, però cazzo va messo in campo. Visto che Terracciano sta mettendo in mostra tutti i suoi limiti in questo momento, magari non dettati per forza dalle sue caratteristiche tecniche, ma anche da uno stato mentale derivante dal fatto che le è arrivato un mostro al posto tuo che te li titolare, io appunto opterei per il ragazzino 2006 che, tra l'altro, freschissimo di rinnovo, cominciamo un pochino ad utilizzarlo nelle partite che magari te tutti senti di utilizzare, nelle partite più importanti, è un altro discorso, però, visto che, appunto, ce l'abbiamo, mettiamolo in campo. Non voglio dilungarmi sui fatti dei rigori sbagliati di Ken, perché quelle sono robe situazionali, cambiano da partita a partita, da mese a mese, basta vedere Nico Gonzalez gli ultimi tre anni, appunto, infallibile sui rigori, poi c'è stato quel momento in una sbagliata, i due di fila, ah, Nico Gonzalez, che merda, battere i rigori, quindi, se domani Ken comincia a battere, li disegna sempre, Ken è il miglior rigorista della Fiorentina, ok? Quindi, sotto quel punto di vista, non mi ci voglio neanche soffermare, però, oggettivamente, un minimo più di, capito, tecnica, o se non lo sai battere, tira una fucilata centrale, almeno non ti sbagli. Poi, questo appunto è il fatto dell'eliminazione, personalmente non me l'aspettavo, ci sono rimasto male, però era un obiettivo importante che avrei voluto portare avanti per tutto l'anno, perché, come vi ho detto, sono cinque partite da giocare, rispetto alla conference, che sono tante di più, se ti arrivi ovviamente fino in fondo, capito? Un po' mi girano le palle, però, però, va bene, dai, almeno, diciamo che, comunque, queste partite qui, se proprio vogliamo trovare un lato positivo, non ce l'hai da fare, puoi concentrarti di più sul campionato, visto che, comunque, in questo momento, è il tuo obiettivo principale, il più importante. Lo è diventato, non lo era all'inizio, lo è diventato, però va benissimo così. Partita contro il Cagliari. Partita contro il Cagliari, ragazzi, che squadra che, comunque, ci mette sempre l'anima quando scende in campo, le partite, soprattutto in casa loro, sono sempre molto ostiche, vedi, molto ostiche, vedi, scusate, il, per esempio, una delle ultimissime, il 3-3 contro il Milan, se non sbaglio, sempre a Cagliari, chiaramente fuori casa l'è un altro discorso. Te, poi, soprattutto, visto che sei partito malissimo con questa sconfitta mercoledì, ti devi riprendere subito, riprendere subito, perché hai visto che, comunque, l'Atalanta sta volando e se vuoi rimanere, comunque, attaccato al treno Champions, devi cominciare a vincere anche te. Ricominciare, scusate, visto che fino ad ora hai vinto sempre, però, ricominciare a vincere, soprattutto contro queste squadre. Contro l'Inter non avrei preteso una vittoria, ma quello non è un altro discorso, che si farà poi da febbraio in poi, quando si rigiocherà la partita. L'Inter, appunto, ha vinto contro il Parma. Hai la fortuna che la Lazio, nonostante ieri l'altro ha strapazzato il Napoli in Coppa Italia, ha perso contro, non mi ricordo contro, il Parma sempre, forse il Parma, il Parma a Parma, se non sbaglio, hanno perso 3-1. La Juventus, ora alle 6, se non sbaglio, gioca contro il Bologna, ma hai la fortuna che anche loro stanno andando abbastanza a zoppino. Il Napoli è un'altra di quelle squadre di cui devi stare attento, ma non sono imbattibili, non sono imbattibili, nonostante un possibile ancora primo posto, non sono imbattibili, occhio. Più c'è il Milan che l'è laggiù e va bene, e siamo a posto così, se non sbaglio le ho dette tutte. Visto che adesso tu hai un filotto di partite comunque fattibili, non impossibili da farci 9 punti, ok? Visto come tu stai andando, c'hai Cagliari, Bologna, Aldallara e poi l'Udinese. Sono queste 3 partite che oggettivamente te sei messo meglio di queste 3 squadre, di tutte e 3, ok? Il Cagliari e l'Udinese le giochi in casa, Bologna, Aldallara molto più difficile, però non impossibile, ok? Il Bologna è l'italiano, lo conosci benissimo, quindi non c'è neanche bisogno di andare a infilare il dito per la piaga, lì bisognerà appunto giocarsela alla pari. Per quanto riguarda i giocatori che, secondo me, entreranno in campo, io penso che si rivedrà comunque tutta la formazione titolare, nonostante la maggior parte hanno giocato mercoledì con Lempoli, ma appunto devi per forza mettere in campo tutta la titolare, e poi rimettere contro il Lask, se non sbaglio, il giovedì 12, la squadra B che rientrerà quella appunto in campo in confidence. La difesa sarà sempre la solita, sarà con Muzzoranieri-Dodo-Gosens, the game porta, io spererei e penso comunque che si potrebbero rivedere Cataldi e Adli insieme nella mediana, Sottil, ragazzi, Sottil per forza di cose deve giocare a sinistra al posto di Bove, perché, ragazzi, oggettivamente, o ti inventi Gudmundson esterno, che però anche lui ancora è a un terzo di servizio, non è a mezzo servizio, è a un terzo di servizio, quindi io penso che comunque anche lui partirà dalla panchina. Per forza c'è solo Sottil, ragazzi, non c'hai, c'hai Kwame adattato, chi c'hai, no, perché poi riserva d'attacco, se no giovedì chi gioca? Nessuno, quindi anche lì bisognerà fare un discorso a gennaio. Trequartista Beltrano per forza di cose, esterno a destra, ragazzi, è Colpani, Colpani per forza, però anche Colpani si deve un attimo svegliare, perché anche lui, io comincio, capito? Va bene, non fa un cattivo lavoro a livello, diciamo, di scambi tra lui e Dodò, di copertura del pallone, di portare via l'uomo per far passare il terzino e si sovrapporre, va benissimo, però, capito, mi aspetto di più, anche in fase realizzativa, davanti. Oh, ragazzi, ma Colpani, a parte la doppietta contro il Lecce, che oggettivamente potevano segnare a tutti, c'è, ha fatto doppietta a Taldi, insomma, ha fatto con Parisi, potevano segnare a tutti in quella partita, poi, beh, lì, hai gol, per carità di Dio, ma... Cazzo, non sei un ebrealo e sei arrivato a un milione, un milione e mezzo, così che tanto chi se ne frega se fai bene o male sei il terzo, tipo la terza scelta, sti cazzi. Te sei la prima scelta, Andrea. Sei la prima scelta. E occhio, perché Giorcò Iconè, nonostante tutti i suoi limiti, nonostante che sottoporta fa vomitare, tutto quello che volete, ma lui, l'uomo, te lo sarta. L'uomo è una delle poche cose che sa fare lasciare e gli fare almeno quella. L'uomo, lui, lo sarta, ma lo sarta anche bene. Lo sarta anche bene. Cioè, delle volte in cui sembra, quando si accende, che possa partire e sarta tutta la squadra. Poi arriva davanti alla porta, anche a porta libera, senza il portiere, e la tira in culo. Però, quello è un altro discorso. Colpani, sotto questo punto di vista, si deve svegliare. Si deve un attimo svegliare. Entrare un pochino di più a gamba fesa dal punto di vista realizzativo, perché i gol da quella parte... Oh, ragazzi, va bene che Goodmanson ancora è lui il sostituto di Nico González, ma l'anno scorso c'era di Nico González di là. E mancano, comunque. C'è la fortuna che tanti altri stanno segnando, soprattutto Ken, che in questo momento, se non sbaglio, è secondo insieme a Turam, a livello di capocannoniere in Serie A, e quindi c'è la fortuna che hai un rimpiazzo a livello realizzativo e non ci sa niente da dire assolutamente, perché le attaccate, ragazzi. Cioè, l'anno scorso si andava a giro con Zola e Belotti, pensa che merda. Però, Dio mio, dai, Andrea, forza. Cioè, noi ti si aspetta anche volentieri, però, cioè, non costringerci a dire, no, dai, devi tornare a Monza, perché qui non è proprio il tuo livello. Dai, cazzo. Cioè, forza. Dai. Poi c'è Ken, ovviamente, punta. Penso che questa potrebbe essere la formazione titolare. Per il resto, ragazzi, il Cagliari comunque è una squadra che ti puoi tranquillamente portarti a casa la vittoria. Senza problemi, ci si può anche cominciare ad analizzare un pochino la partita sotto il punto di vista delle partite che ha fatto il Cagliari, che è una squadra che comunque aggredisce. Cioè, di sicuro ti aspetteranno, perché tanto non... Cioè, nel senso, le squadre contro di noi, 99 su 100 si chiudano. Soprattutto una squadra che, sulla carta, è inferiore come il Cagliari, si chiuderanno. Quindi sarà una partita sudicia, anche questa. Sudicia, sporca. O la sblocchi subito, nei primi minuti, come per esempio ha fatto l'Empoli contro di noi, su un errore, su un'invenzione, ok? Se no sarà una partita sudicia. Sarà una partita del cazzo, ok? Sarà una partita che farai fatica a portare a casa, per come la vedo io. E poi magari vinci 8-0. Però, io mi aspetto una roba del genere. Spero di vedere, appunto, un gol nei primi minuti, così almeno da stare anche un pochino più tranquilli, e far giocare anche la squadra più tranquilla, perché bisogna ripartire anche a livello mentale, ok? È successa una mezza tragedia, ma ora il ragazzo sta bene, e ha anche chiesto a voi, ragazzi, e voi scendete in campo, di dare il 100%, perché lui sta bene, e deve cominciare a ripartire qui, ma soprattutto a livello fisico, che i dottori gli dicano che tutto va bene, tutto sta bene, lasciamo perdere le varie speculazioni, defibrillatore interno, non può giocare, lasciatele perdere, quelle poi si vedranno più avanti, magari tutto poi cambierà da un giorno a un altro. Speriamo. Quindi, fatemi sapere la vostra sotto nei momenti, ragazzi, sempre forza viola, scusate per la lunghezza del video, ma ci ho messo dentro un pochino di, appunto, partita dell'Empoli, perché appunto non l'ho analizzata in questi giorni, e volevo anche un pochino dire la mia per farvelo sapere anche a voi. Ci si vede domani con il post partita e domani l'altro alla live reaction, come sempre, ragazzi. Speriamo bene, perché queste partite, tutte e tre, tutte e tre, servono per farci arrivare a Natale proprio così, così. Ciao ragazzi.